Nessun canestro ha referto. Miem alza palla dentro per Jakubu. Capisce tutto Beckhoutry che va in anticipo e può lanciare il contropiede dove Petrovic va a appoggiare a tabelloni. Beckhoutry non va a rimbalzo, controllato da Dotto. Trova a spingere il contropiedischio. Dotto, Dotto va fino in fondo. Dotto c'è la stoppata di Beckhoutry. Unare il quarto. Con questo canestro. L'altra parte, Beckhoutry va a rubare palla. Al Dinamo Kursk. Prince chiude il palleggio, va fuori da Beckhoutry. Spazio per il tiro a tre punti e lo mette. Anderson. Alza palla per Miem contro Beckhoutry. La stoppata di Beckhoutry su Miem. Meckhoutry dall'altra parte. Scarica una gran palla per Vadeva.